Il Centro Lo straccio di vino e il dovere di proteggere un paziente Lei è la legge, vale lo stesso per lei Speriamo che suo fratello non sia così Vada più piano Qualcosa si è mosso Il Centro Sono loro, sono loro Davvero notevole Davvero notevole Grazie a tutti. 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 Il bravo dottore è qui. E cosa sarà successo qui? Grazie a tutti. Ehi, che stai... Grazie a tutti. Come può aver fatto questo a Valerio? Impossibile. Grazie, Ruvic. 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 Leslie? Veniva da fuori? Si. Si. Mi metto qui, così non lo faccio. Grazie, Ruvic. Sì. Grazie a tutti. 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 Li ha eliminati tutti. Il dottor Imenes è qui. Ora calmati. Dottore, un attimo. Sta arrivando qualcuno. Qualcosa qui. Stai caldo. Fa paura. Fa paura. Questo posto è una trappola. Esisterà. Esisterà un posto sicuro. Esisterà un posto sicuro. Le scale sono... Le scale sono sparite. Le scale sono sparite. Ruvig. Ruvig. di un attimo. Grazie a tutti. 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 Marta, meglio scappare. Grazie a tutti. 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 a tutti.